Previsioni per oggi. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schierite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. Abbiamo deciso di aprire così questa giornata, anche per svegliarci un po'. Buongiorno, buon venerdì. Buon venerdì 2 giugno, quindi buona festa della Repubblica a tutti quanti voi. Abbiamo deciso di aprire con la festa dei tifosi del Cosaenza. grazie, un saluto e ringraziamento ovviamente a Enzo Leonetti che è in regia e dicevo una festa che è scattata, stavo per dire al novantesimo in realtà non è così perché sappiamo bene tutto quello che è successo ieri e a proposito andiamo a ripercorrerlo subito sulle prime pagine dei giornali e anzi non sulle prime pagine, sulle pagine interne dei giornali anticipiamo un po' lo sport doverosamente per quella che è da considerarsi un'impresa del Cosenza allora vediamo velocemente la pagina interna di Gazzetta del Sud Cosenza, festa salvezza nel caos e adesso spiegheremo anche perché segna Bisoli, replica Maroni e Meroni al novantacinquesimo i tifosi di casa invadono il campo e il match chiuso al novantaseiesimo l'impresa dei Silani che pareggiano in extremis a Brescia nel ritorno dei play-out e conquistano un'altra miracolosa permanenza ovviamente queste sono alcune foto, cosa è successo? è successo che nel primo tempo e nel secondo tempo il Brescia aveva in vantaggio 1-0 al novantaquattresimo il gol di Meroni fra poco vedremo anche gli highlights, le azioni principali di questo incontro poi però purtroppo, questo non lo vedremo negli highlights perché purtroppo la Lega non ci ha inviato queste immagini e di fatto subito dopo il gol del Cosenza c'era ancora un minuto da giocare entrano in campo dei tifosi del Brescia il lancio di fumogeni in campo la situazione diventa assolutamente insostenibile e a quel punto l'arbitro è costretto a indicare alle due squadre le vie degli spogliatoi devono arrivare i poliziotti, arrivare i celerini a allontanare i tifosi e a cercare di ristabilire un po' di calma davvero un qualcosa di indecente quello che è successo a Brescia adesso diciamolo, lo possiamo dire in maniera assolutamente senza tema di smentita come si dice in questi casi e a quel punto era impossibile tornare a giocare c'è stata un'attesa di circa mezz'ora per poter giocare quell'ultimo minuto di recupero è rimasto che l'arbitro aveva intenzione di giocare le condizioni di sicurezza non c'erano e a quel punto non è rimasto altro all'arbitro da fare che fischiare per tre volte quindi sancire la fine delle ostilità l'uno a uno che per il Cosenza vuol dire salvezza andiamo anche sulla pagina del Quotidiano del Sud Meroni salva il Cosenza al 95esimo un gol di Meroni regala permanenza in via e scatena l'ira dei tifosi del Brescia gara sospesa per oltre 30 minuti dopo l'1-1 poi esporta la festa tra l'altro secondo quanto raccontato al triplice fischio che è arrivato praticamente dopo mezz'ora di sospensione i giocatori del Cosenza sono scattati subito sotto il settore ospiti dei tifosi che ospitava i tifosi rosso-blui circa mille tifosi rosso-blui che sono arrivati a Brescia e qui qualche immagine la possiamo vedere questo è quello che è successo praticamente al Rigamonti ripetiamo a Lega non ha fornito purtroppo le immagini e non possiamo quindi fornirvela almeno per questo momento ci sono i fumogeni in campo entrano anche in campo alcuni tifosi allora a quel punto tutti se ne vanno negli spogliatoi l'arbitro giustamente indica la via degli spogliatoi si ritorna in campo ma evidentemente non c'è poi non ci sono le condizioni per andare a giocare e questo dopo il triplice fischio dopo il triplice fischio questa è l'esultanza dei tifosi del giocatore del Cosenza sotto il settore ospiti poi la stessa polizia avrebbe detto avrebbe indicato ai tifosi del Cosenza di rientrare proprio per motivi di ordine pubblico e se andiamo a vedere le pagelle tra l'altro qui nel quotidiano non c'è un giocatore al di sotto del 7 senza quel gol di Meroni ha potuto vedere quelle che erano le pagelle con un Micai 8 Meroni 8 ovviamente il suo gol e le parate di Micai una proprio poco prima del gol adesso andremo a vedere e poco prima del gol di Meroni adesso andremo a vedere appunto gli highlights prima vi proponiamo però poi un altro video e vetti disordini praticamente i tifosi del Brescia avrebbero provato poi a entrare nel settore dei tifosi del Cosenza questi disordini che ne sono scaturiti davvero qualcosa di vergognoso vergognoso la beffa ci sta ovviamente perché è dura magari per i tifosi poter accettare di prendere un gol al 95esimo e retrocedere in Serie C ma non è cioè è ingiustificabile tutto questo è assolutamente ingiustificabile torniamo in studio a questo punto e andiamo a vedere i gol anzi gli highlights delle di Brescia Cosenza possiamo andare con le immagini se sono pronte credo proprio di sì eccole qua queste sono immagini del primo tempo ovviamente con il Cosenza che ci prova un primo tempo in cui le due squadre si sono come dire per certi versi studiate qui c'è una conclusione di Nasti parata facilmente dal portiere del Brescia e poi l'unica occasione del Brescia nel secondo tempo ancora qui Mica è protagonista e poi la deviazione il tentativo di tap-in termina fuori decisamente più vivace il secondo tempo con diverse occasioni del resto del Brescia non aveva assolutamente più nulla da perdere e dunque si è ovviamente ha provato ad attaccare il Cosenza si è difeso con grande ordine come vedete e solamente in alcune occasioni nell'occasione del gol che vedremo fra pochissimo si è lasciata sorprendere la difesa rosso-blu qui ancora una conclusione con la traversa scheggiata ancora un'occasione importante per il Brescia non sono state tantissime per la verità anche una deviazione di Micai fondamentale più avanti sentiremo anche i tifosi e c'è chi nomina appunto Micai da allora è cambiata la difesa e qui un colpo di testa che non impensirisce invece l'estremo difensore rosso-blu e poi c'è l'azione del gol con Galazzi poi la palla finisce dall'altra parte a Bisoli che con il suo destro la mette praticamente sotto l'incrocio imparabile per Micai la festa dei giocatori del Brescia che entrano in campo ecco Bisoli e tra l'altro un Bisoli il padre l'anno scorso aveva salvato il Cosenza come allenatore un altro Bisolo il figlio Dimitri sembrava poterlo condannare ecco la sua conclusione davvero bella di esterno-destro nulla da fare per Micai a questo punto il Brescia ci crede vuole il 2-0 perché con l'1-0 sarebbe ai supplementari la preoccupazione intanto del presidente Uarascio questo calcio d'angolo con questa deviazione di Micai miracolosa davvero siamo praticamente al ridosso del novantesimo qui poteva cambiare davvero la storia di questo doppio confronto guardate qui la palla Micai con il piede un riflesso e poi Meroni invece la mette dentro per l'1-1 e adesso a impazzire la panchina del Cosenza tutti in campo tutti a festeggiare il pareggio che va alla salvezza ecco il settore ospite dei tifosi del Cosenza i mille tifosi del Cosenza che hanno raggiunto la squadra la delusione ovviamente negli occhi dei giocatori del Brescia l'esultanza ecco anche William Viali che poi chiama la squadra perché c'è ancora da giocare un minuto il colpo di testa non lo trattiene non lo trattiene il pallone il portiere del Brescia la palla termina dentro ed è il gol salvezza quello di Meroni ecco l'esultanza siamo saldi viene detto a Viali e dopo la mezz'ora ecco il triplice fischio e lo scatto dei giocatori rosso-blu verso la curva per festeggiare dunque grande festa per il Cosenza ecco i tifosi i giocatori e anche William Viali uno dei protagonisti che abbraccia i suoi giocatori abbraccia tutti e poi va a esultare c'è qualcuno con la maglietta di Delic Delic giocatore del Cosenza che è ritornato in patria per problemi personali auguriamo il meglio a lui così come con quella maglietta l'hanno voluto celebrare ricordare i suoi compagni di squadra dunque grande festa abbiamo preferito aprire con il Cosenza in un periodo purtroppo contraddistinto le vedremo adesso da tante brutte notizie che arrivano dalla Calabria e anche da tutta Italia notizie di morte purtroppo ne parleremo fra pochissimo notizie tragiche di Crona che arrivano dal resto dell'Italia insomma abbiamo voluto però omaggiare così questa squadra che ha regalato un momento bello ai suoi tifosi tifosi che come avete visto in apertura si sono riversati nelle piazze nelle strade di Cosenza per festeggiare abbiamo visto le immagini dei festeggiamenti andiamo a sentire adesso l'opinione dei tifosi andiamo a sentire l'esultanza dei tifosi se ci credevano chi è il giocatore chiave insomma sentiamo la loro voce ci credevamo ma fino a un certo punto comunque Cosenza è una piazza che ha avuto sempre fame quindi quest'anno abbiamo avuto molte difficoltà però comunque sotto sotto sapevo che ci saremmo salvati adesso ci crediamo questa serata e poi da domani programmare per la prossima stagione perché dobbiamo ripartire forte davvero cercando magari di salvarci un po' prima rispetto all'ultima giornata spera facciamo una buona programmazione si si ci vedo all'inizio cosa sto dicendo ci è andata bene pure questa volta ci abbiamo creduto dall'inizio certo dopo l'1-0 è stata dura è stata dura ma poi è stato quel sogno San Francesco di Paolo ha segnato è sempre difficile arrivare all'ultima partita speriamo che l'anno prossimo farà una squadra più competitiva il nostro presidente comunque ci crediamo sempre solo che avevo la minima 190 fino alle 10 e un quarto perché secondo me la squadra ha avuto più cuore è stata più determinata sicuramente secondo me questo è stato il motivo ci speravo credere stasera era dura veramente dura e ne abbiamo avuto la dimostrazione per quello che è successo no sinceramente no era difficilissimo una partita completamente dominata però col cuore ce l'abbiamo fatta alla fine all'inizio primo tempo discreto secondo poteva andare meglio di sicuro abbiamo fatto molti errori ma all'ultimo diciamo abbiamo recuperato all'improvviso nella svolta penso con la regina quella partita è stata impressionante allo stadio ancora ci abbiamo imprivito addosso secondo me la chiave del Cosenza sono i tifosi siamo noi ma io direi tutta la squadra insieme ci hanno creduto fino alla fine ma credo che che alla fine tutta la squadra si è combattata protagonista siamo noi siamo tutti tutto il popolo rossobio come al solito non credo ci sia stata una persona chiave piuttosto fortuna se devo essere proprio totalmente onesto penso il mister Viali Nasti pure però da quando è arrivato Mikai la difesa si è aggiustata insomma è cambiato un po' tutto l'allenatore ha dato un buon contributo alla squadra e ha dato una mano per questa salvezza basta sofferenza basta sono quattro anni che soffriamo in un modo incredibile una tifoseria del genere non merita di soffrire così ebbene queste le impressioni dei tifosi noi adesso chiudiamo la parentesi legata l'ampia parentesi legata al pareggio del Cosenza che è come una vittoria che va alla permanenza in Serie B la celebriamo anche con la giacca blu e cravatta rossa quindi insomma torneremo a parlare ovviamente del Cosenza anche nel corso dei nostri telegiornali ovviamente ne parleremo a lungo quella che è stata una cavalcata poi alla fine degli ultimi mesi protagonisti avete sentito i tifosi alcuni indicano per esempio William Viali altri gli stessi tifosi che in parte ci hanno creduto in parte no alcuni lo hanno ammesso non solo durante la partita di ieri ma insomma in tanti due mesi fa due mesi e mezzo fa con il Cosenza ultimo in classifica a quel punto non ci credeva davvero nessuno e anche i bookmaker quotavano la quadrazione della salvezza del Cosenza con una quadrazione molto alta questo significa che era davvero molto difficile che non ci credeva assolutamente nessuno ci ha creduto il Cosenza ci hanno creduto i giocatori ci ha creduto l'allenatore che è subentrato lo ricordiamo nello scorso mese di novembre e alla fine ha avuto ragione lui ed è riuscito ad arrivare a quella salvezza purtroppo non vi possiamo proporre e questo è qualcosa cosa che ci dispiace ci dispiace davvero proprio le interviste del post-gara le opinioni le impressioni in conferenza stampa di William Viali per un semplice motivo perché proprio per motivi di sicurezza per quello che è il clima poi che si è vissuto a Brescia e questo è davvero vergognoso disdicevole e mi fermo qui per non usare altri oggettivi offensivi non c'erano le condizioni di sicurezza per portare in sala stampa l'allenatore e qualche giocatore del Cosenza purtroppo le condizioni di sicurezza non c'erano e di fatto non vi possiamo proporre perché non c'è stato di fatto le interviste post-gara non ci sono state e questo ci dispiace e questo è davvero grave perché per motivi di sicurezza ecco non poter andare a esternare quello che il proprio pensiero alla fine repartita è davvero un qualcosa di terribile comunque andiamo avanti adesso lasciamo davvero la parentesi calcistica la parentesi legata al Cosenza per andare sulle prime pagine dei giornali parleremo oggi purtroppo ancora della tragedia di Cutro perché ci sono novità nell'inchiesta e a proposito di inchieste c'è quella anche per la morte di Denise e torneremo a parlare anche di questa di questo tragico evento altri tragici eventi sono quelli che arrivano dal milanese ieri mattina abbiamo parlato anche dell'uccisione a Roma e a Milano di Giulia e Paola ieri abbiamo parlato di Giulia Tramontana ieri mattina la notizia è arrivata praticamente quando eravamo in onda e ve ne abbiamo anche parlato la notizia del ritrovamento del suo cadavere e delle confessioni del fidanzato parleremo anche di questo insomma tanti gli argomenti allora a questo punto andiamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud questa è l'edizione di Cosenza naufragio di Cutro svolta nell'inchiesta tre finanzieri si legge avrebbero attestato l'invio di un mezzo che in realtà era remase in porto il barcone di migranti affondato a febbraio perquisizioni nelle sedi di guardia di finanza e guardia costiere e sei indagati dalla procura di Crotone poi ancora fra poco parleremo appunto della vicenda legata a Denise Galatà la diciottenne di Rizziconi che purtroppo è morta negata nel fiume Lao mentre faceva rafting con i suoi compagni di classe ne parleremo fra poco adesso andiamo sulle altre notizie poi torneremo alle notizie calabrese andiamo sulle notizie nazionali verso un nuovo codice controlli sul PNRR braccio di ferro fra governo e corte dei conti dunque ancora la politica e poi abbiamo anticipato la cronaca l'infinita strage delle donne uccise Giulia e Paola a Roma poliziotto spara due colpi di pistola una collega e si suicida nel milanese il fidanzato della 29enne incinta confessa e fa ritrovare il cadavere l'ho accoltellata volevo bruciarla insomma è abbastanza tristi è abbastanza drammatico anche queste sconvolgenti anche le notizie che arrivano come abbiamo detto da Roma e con il poliziotto Paola Romano che è stato ucciso da appunto da un collega che poi si è anche suicidato e nel milanese Giulia Tramontano l'abbiamo parlato già ieri mattina uccisa dal fidanzato il boom di posti stabili i dati femminili trascinano ai massimi l'occupazione questa è una vicenda diversa che riguarda in positivo il mondo femminile e poi rissa tra i familiari delitto di Luca Sacchi confermate le pene per i killer per il killer e Anastasia confermate in appare dell'impianto accusatorio per l'omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma nel 2019 27 anni per l'autore materiale Valerio Delgrosso per la fidanzata di Sacchi Anastasia i Kilemnik ribadita una pena da tre anni una rissa fra familiari di alcuni imputati si è scatenata dopo la sentenza e poi ancora nominati 25 cavalieri del lavoro al cui rinale festa per il 2 giugno c'è anche Carlo Pesenti di Ital Immobiliare e poi sostegno dell'Italia Zelensky si parla della guerra in Ucraina ovviamente tutti i paesi confinanti con la Russia entrino in Unione Europea e Nato e poi ritorniamo in Calabria Bevacqua parla di Rende Partito Democratico esperienza finita dice Bevacqua stigmatizzato il mancato intervento del commissario provinciale dei Democrat Rende impietosa analisi del copogruppo regionale del partito un silenzio imbarazzante dice Mimbo Bevacqua capogruppo in consiglio regionale del partito democratico che contesta il mancato intervento del suo partito sulle delicate questioni che riguardano la municipalità rendese dunque da un lato la come dire l'attacco all'amministrazione comunale di Rende tutto quanto è successo ma dall'altro anche come si dice l'attacco all'interno del proprio partito al responsabile provinciale al quale viene detto anziché seminare Zizzania dovrebbe interessarsene insomma un attacco anche all'interno e polemiche all'interno del partito democratico e andiamo a Cosenza nuovo ospedale Mazzuca Sferza la giunta regionale e parleremo più avanti anche del nuovo ospedale di Cosenza e poi il Cosenza appunto si salva con un gol al 95esimo strepitoso Epico Cabrescia Guerriglia alla fine dopo il colpo di testa decisivo di Meroni partita sospesa per lancio di Fumogi all'invasione di tifosi lombardi treplice fischio in anticipo e apoteosi rosso-blu e questo è un tema che abbiamo già trattato ampiamente e poi purtroppo dobbiamo tornare a parlare di Denise Galatà la 18enne di Rizziconi che purtroppo è morta mentre faceva rafting con i compagni studentessa annegata nel fiume Lao in 10 sotto indagine sono guide e organizzatori oggi l'autopsia sul corpo di Denise che dovrebbe svolgersi al Giannetasio di Rossano presidio facendo parte dello SPOC di Corigliano Rossano ispettore del ministero al Re Chichi ovvero la scuola di Polister la scuola che era frequentata da Denise 10 persone sono indagate alla procura di Castrovillari per la morte di Denise Galatà 18enne di Rizziconi annegata nel fiume Lao si tratta di due responsabili dell'associazione che organizza il rafting di sette guide e della sindaco di Laino Borgo Maria Angelina Russo che tuttavia ha comunicato il bollettino di allerta gialla diffusa alla protezione civile al liceo Re Chiche di Polistena audizioni degli ispettori del ministero dunque questa è la prima pagina di Gazzetta del Sud la vediamo nel suo complesso eccola qui dunque si continua a parlare ovviamente del caso della morte di Denise Galatà oggi l'autopsia la procura ha aperto un'inchiesta 10 indagati ovviamente poi vedremo quelle che saranno quelli che saranno i risvolti di questa inchiesta e ne parleremo ma non c'è solamente l'inchiesta purtroppo c'è anche il momento ovviamente molto più umano molto più sicuramente come dire intimo del dolore ed è un dolore questo davvero che si può toccare con mano il dolore rompe il silenzio nella valle del fiume lao la zia di Denise arriva da Roma si ferma nella strada sterrata in quel paradiso che per la sua famiglia si è trasformato in inferno e parla più a se stessa che ai cronisti doveva venire qua in questo bosco per non ritornare più a casa ritornare con il carro fune doveva ritornare con una macchina di matrimonio non con il carro fune una famiglia si distrugge si distrugge quando ci sono queste cose sotto il cielo velato di nuvole di una giornata che nessuno avrebbe voluto vivere arriva anche il papà della ragazza lui non ha parole è solo l'abisso della sofferenza si vede dai gesti da come chiude la portiera dell'auto il carro funebre avanza piano sui sentieri del parco del Pollino il nero stride con il verde verde come gli anni di Denise Lagatà che sognava di fare il medico che insieme ai suoi compagni di classe aveva atteso la gita di fine anno immaginando ore spensierate invece tutto è finito in un attimo maledetto nelle acque gelide ingrossate di un torrente la cui voce potente e minacciosa anche nel momento in cui il corpo della ragazza viene recuperato dai vigili del fuoco in una primavera che sembra autunno nell'interminabile pomeriggio di fine maggio anche i cronisti avvertono il vuoto che lascia la morte improvvisa in attesa alla quale si cerca di dare dannatamente un senso il tribunale di Castrovilla riaperto un'inchiesta pare che ben 5 dei 7 gommoni utilizzati per il rafting abbiano avuto problemi durante l'escursione fatale per la ragazza ci vorrà tempo per accertare eventuali irresponsabilità con il fiume in quel modo secondo me c'era qualcuno che doveva prendersi la responsabilità di non farli salire perché alla fine 18 anni avevano anche se sono maggiorenni ancora la vita deve sbocciare di certo la morte di Denise resterà come una ferita aperta nei sentieri di questa zona del parco di certo un rivido in queste ore ha attraversato tutte le famiglie calabresi che si fermeranno il giorno dei funerali della ragazza che era attiva nella sua parrocchia a Rizziconi dove è stato proclamato il lutto cittadino davvero difficile commentare davvero difficile passare dalla abbiamo parlato della festa del Cosenza che poi non assume non assume alcun valore di fronte a queste cose purtroppo sono fatti che non vorremmo mai raccontare che purtroppo stiamo raccontando da diverse ore pensate un po' alla famiglia di questa ragazza oltre che una giovane di vita appunto spezzata e questo fa davvero male adesso l'inchiesta andrà a chiarire le responsabilità ciò che è stato fatto e non doveva essere fatto oppure ciò che è stato fatto male e ciò che non ha funzionato lo scopriremo questo se ci sono state degli errori delle responsabilità se tutto quello che è accaduto lo scopriremo e ci saranno probabilmente magari pagherà anche chi ha avuto le responsabilità in questa tragedia la verità è che però abbiamo visto la zia abbiamo visto anche il padre e Denise purtroppo tutto questo non servirà a far tornare Denise dai propri cari e questa è sicuramente la considerazione più amara che si possa fare andiamo avanti andiamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud l'edizione di Catanzaro Crotone La Mezza Terme e Vibo Valencia questa è la pagina eccola scusate un po' è saltato il touch questa è ovviamente l'apertura è identica a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina dell'edizione di Cosenza sia nelle notizie regionali sia insomma la svolta dell'inchiesta del nofragio di Cutro la vicenda legata a Denise e tutta l'altra notizia nazionale allora andiamo a vedere cosa cambiano cambiano le notizie che arrivano dalle province di Catanzaro Crotone Vibo e dall'Ametino allora l'inchiesta Cartago Maestrale e ordinanze del GIP 51 restano in cella la mezza termine il nuovo palazzetto lavori in stand by a rischio i fondi europei e poi Catanzaro ancora adesco una dodicenne sui social e si fa inviare immagini di nudo arrestato un giovane dalla polizia trovato materiale pedo pornografico insomma al peggio non c'è mai fine andiamo avanti anche con l'edizione di Reggio Calabria anche qui identica alle altre due allora andiamo a vedere prima di fermarci per la nostra consuetta pausa le notizie che arrivano dalla provincia di Reggio Calabria e dalla città di Reggio Calabria Daniela Iello ricorda suo padre Bruno ammazzato dai clan la troviamo all'interno della sua tabaccheria il racconto di Gazzetta del Sud Genio civile chiuso a Reggio Calabria protestano ingegneri architetti e geologi una situazione che va avanti dal mese di aprile secondo quanto racconta appunto Gazzetta del Sud e poi andiamo alla piana di Gioia Tauri contributo dell'Unione Europea per l'agricoltura andranghettisti e sorvegliati speciali raffica di condanne dei giudici contabili terreni fertili ecco per le truffe bene noi ci fermiamo qui con quest'ultima prima pagina di Gazzetta del Sud che abbiamo visto Ritorneum per andare sul web vedere le pagine interne altre notizie alla Calabria altre notizie dall'Italia e dal mondo perciò state con noi ci vediamo fra pochissimo seconda parte di prima pagina torniamo ancora in diretta abbiamo raccontato ovviamente nel corso della prima pagina tante notizie che arrivano dalla Calabria ovviamente siamo partiti con la festa dei tifosi del Cosenza poi abbiamo affrontato altri temi e temi di stringente attualità tra questi anche quelli legati purtroppo alla morte tragica di Dienis Galatà la ragazza rimasta uccisa nel fiume Lao praticamente morta annegata nel fiume Lao oggi tra l'altro è prevista autopsia quindi capiremo anche poi le cause della morte l'inchiesta va avanti adesso cambiamo argomento come sempre in apertura la nostra seconda parte andiamo sul web per andare a scoprire le notizie in primo piano le notizie anche in tempo reale andiamo su repubblica.it la versione online del quotidiano La Repubblica e questa l'home page Banca Italia Rai Quirinale quella allergia alle regole che distingue il governo Meloni un'analisi dura ovviamente nei confronti del governo da parte di un giornale che ovviamente è all'opposizione il caso gli appalti dei militari e anche i civili così l'esercito finisce nello spoil system e poi l'intervista al ministro Schillaci con il PNRR con il PNRR soldi al personale infermieri dall'India per i buchi in corsia e poi la festa del 2 giugno la giornata di oggi ne stiamo parlando poco la festa della Repubblica ne parleremo sicuramente più avanti nel corso del nostro telegiornale tra l'altro delle nostre edizioni del nostro telegiornale sicuramente parleremo di questa ricorrenza Mattarella difende la Costituzione la destra al debutto poi la celebrazione torna in grande stile la parata militare oltre ai muscoli sfila la difesa civile e poi purtroppo anche il delitto tramontano l'altra compagna l'assassina l'ha capito e si era offerta di aiutare Giulia lui è strano vieni a stare da me insomma ecco Impagnatiello andava in giro con il cadaver nell'auto la bugia orribile si è accoltellata da solo parla il testimone della lite fra Impagnatiello e l'altra donna le diceva di calmarsi lei era arrabbiata e poi ancora il Fatto Quotidiano cambiamo testata ancora il FattoQuotidiano.it stragi del 93 Ogra Gasparri chiede a Nordio di mandare gli ispettori alla Procura di Firenze l'indagine su Berlusconi tesi politica del PM dunque si ritorna un po' indietro del tempo a 30 anni fa si ritorna invece nell'attualità con la storia purtroppo di Giulia Tramontano risveglia la politica violenza sulle donne governo pronto nuove norme lo sapevamo tutte sui social hashtag per dire basta la confessione di Impagnatiello l'ho uccisa alle 72 ore di indagine che lo hanno incastrato il verbale dell'altra donna ero preoccupata poi ancora il naufragio di Cutro in prima parte sulla home page del Fatto Quotidiano naufragio Cutro il PM alterati i documenti sei indagati sequestri nelle sedi di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e vedremo anche questa vicenda come andrà a finire che ci riguarda anche abbastanza da vicino alla Corte di Giorgia la Premier rientra in anticipo dalla Moldova per la festa del 2 giugno dunque le celebrazioni con la Premier l'ultima bugia di Impagnatiello ancora il caso Tramontano e si feriva da sola poi il fidanzato di Giulia Tramontano crolla l'ho uccisa e le ho dato fuoco e ancora in primo piano Gentiloni sul messo in gioco la reputazione del PNR scusate si è aggiornata la pagina come spesso accade che è il rischio di lavorare sull'online in tempo reale sul messo in gioco la reputazione PNR l'Unione Europea non vigila sulle frodi queste le parole dell'ex Ministro degli Esteri e Premier Paolo Gentiloni poi ancora su avvenire.it che ci ricorda anche che oggi oltre ad essere la festa della Repubblica in tutta Italia questa sera è la notte dei santuari insomma c'è la possibilità probabilmente di andare a visitare qualche santuario che resterà aperto fino a tarda sera probabilmente insomma quella che è la notte dei santuari e poi anche qui il naufragio di Cutro primi indagati per il mancato soccorso al barcone dunque ancora da un lato la strage di Cutro all'altro la vicenda legata ai femminicidi e non solo quegli orrendi delitti e la rabbia social dall'avvenire.it ci spostiamo sul tempo il tempo.it no Europa di serie A e serie B Meloni apra Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea Meloni ha i suoi avanti sul premierato al lavoro sulle riforme costituzionali intanto Ucraina Zelensky in Moldavia Medvedev Kiev un Vespaio che va distrutto parole sinceramente inaccettabili anche queste Biden è cauto di nuovo Trump si preoccupa deve stare più attento e poi da Mosca minaccia e sciocca all'Europa Kiev va sterminata altrimenti continueremo andiamo sul messaggero quotidiano della capitale c'è anche in prima pagina in home page chiedo scusa si fa confusione fa la prima pagina home page del resto passiamo dai cartacei agli online velocemente allora chiedo scusa per la confusione che ogni tanto si può generare Dennis Galatà morta nel fiume 10 indagati le mirine responsabili dell'Apollino Rafting 7 guide questi gli indagati come riporta il messaggero e poi l'altro caso che di fatto sta occupando le prime pagine dei giornali e anche le home page Giulia la confessione quell'estrema menzogna del fidanzato colpo al collo per non farla soffrire l'ultimo sms la doppia vita di Alessandro l'altra donna di Impagnatiello le aveva proposto di venire a stare da me poi quello strano messaggio la poliziotta è uccisa dal collega era malata ieri era il suo primo giorno di chemioterapia l'uomo si è tolto la vita la pista è quella passionale insomma altra vicenda anche quella che arriva da Roma non solo quella di Giulia Tramontano che mediaticamente sta richiamando maggiore attenzione ma c'è la stessa la stessa dramma la stessa percentuale come dire di drammaticità anche in questa vicenda che ha visto la morte di una poliziotta a Roma uccisa da un altro uomo un suo collega un altro poliziotto che si è tolto la vita poi ilmattino.it da Roma ci spostiamo a Napoli questa l'home page del mattino Giulio uccisa dolore a Sant'Antimo gioiva nello shopping per il bimbo pensate un po' questa donna che aspettava che era in attesa e aspettava il suo bimbo che purtroppo non non vedrà mai ma il bimbo non verrà mai alla luce bimba ferita armi scomparse sono state distrutte dal clan e poi ancora pubblica amministrazione cambiano i concorsi niente orale fino al 2026 e test su base regionale gli ammendamenti del governo riservato il 15% dei posti e chi ha svolto il servizio civile Vaticano un uomo si è tenuta sull'altare di San Pietro questa notizia che non avevamo trovato ancora e poi assolto ma non lo sapeva resta due anni domiciliari lo strano caso la strana notizia che arriva dal mattino di Napoli e poi chiudiamo con una testata regionale testata qui cosenza.it per i fatti calabresi e andiamo ovviamente in prima pagina in non page c'è da scusa l'apertura è dedicata al Cosenza Merone al 95 regala salvezza al Cosenza Brescia in serie C tifosi rosso-blu in delirio dal baratro della C alla GR frenabile tifosi rosso-blu incontenibili in città scoppia la festa che si è protratta appunto nella notte la morte della studentessa di Nisca al Fiume Lau ci sono dieci indagati e poi arrestato 22enne beccato con centinaia di video pedopornografici aveva descato una dodicenne queste le notizie anche in tempo reale notizie che arrivano dalla web per quanto concerne la Calabria e non solo i giornali nazionali possiamo dire adesso visto che ho più volte citato le famose prime pagine andiamo a vedere le pagine dei giornali ritorniamo sulle pagine dei giornali le pagine interne di Gazzetta del Sud che ritorna sulla vicenda del fiume Lau studentessa morta nel fiume 10 indagati sotto inchiesta i dirigenti del Canoa Club Lau Pollino e le sette guidi impegnate nell'escursione avvisa al sindaco di Laino Borgo l'avvocato Laghi però precisa avverti tutti dell'allerta gialla dunque vedremo ci sono ovviamente gli indagati essere indagati non vuol dire essere colpevoli spieghiamolo subito essere indagati non vuol dire essere già condannati indagati vuol dire che si stanno svolgendo delle indagini si cerca di chiarire l'accaduto e poi eventualmente dall'indagine si può passare alla richiesta di rinvio a giudizio qualora vengano trovate delle motivazioni delle colpe delle presunte colpe poi il giudice per l'udienza preliminare decide se rinviare queste persone a giudizio o arrivare a un'archiviazione qualora vengano rinviate a giudizio c'è un processo primo, secondo terzo grado e poi si arriva a essere colpevoli ovviamente in questo caso stiamo parlando ancora di persone indagate quindi non possiamo parlare subito di colpevolezze parliamo di indagini che ancora sono in una fase abbastanza come dire primitiva ancora siamo proprio all'inizio delle indagini quindi vedremo come andrà a finire probabilmente qualche responsabilità c'è stata qualcosa non ha funzionato come doveva ma non bisogna ancora puntare il dito contro nessuno perché è ancora prematuro bisogna aspettare certo purtroppo come abbiamo detto siamo tutti a piangere una vita umana e questo è molto molto grave ed è drammatico ritornando sulle pagine interne di Gazzetta del Sud troviamo gite scolastiche e nodo sicurezza i sindacati a necessario intervenire gli unti dell'USR non c'è modo di alleggere le responsabilità collettive dalla vicepresidente Princi il cordoglio della regione giorno triste e buio Roccella incassa gli impegni del governo è il momento dei fatti poi il post visita di Matteo Piantedosi andiamo avanti con le notizie che arrivano da Reggio Calabria Geno Civile ufficio chiuso da mesi la regione trovi una sede alternativa la protesta di ingegneri architetti e geologi che lamentano ritardi nell'aspletamento delle pratiche oltre a un pesante danno economico legato ai bonus edilizi il comune non ha ancora trovato una sede per il centro dell'impiego questo sempre nella città di Reggio Calabria questo per dare notizie di ciò che accade anche nella città dello stretto insomma stiamo parlando tanto di purtroppo fatti gravi fatti di cronaca ne abbiamo parlato anche negli ultimi giorni abbiamo parlato per esempio anche di incidenti sul lavoro incidenti sul lavoro che abbiamo visto anche a Rocca Imperiale un uomo di 35 anni se non ricordo precisamente l'età 39 anni che purtroppo ha perso la vita tante le morti bianche allora si parla anche di incidenti sul lavoro e c'è anche un fondo per le vittime andiamo a vedere morti e infortuni sul lavoro i dati sono sempre più allarmanti secondo le rilevazioni dell'INAIL a livello nazionale sono 196 morti nei primi tre mesi dell'anno in Calabria si registra una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma di lavoro purtroppo si continua a morire l'EBAC l'ente bilaterale artigianato Calabria ha istituito un fondo ad hoc perché ha subito incidenti sul lavoro l'iniziativa presentata nel corso di una conferenza stampa è stato fortemente voluto dalle parti sociali è stata una nostra priorità ed è importante in una regione in cui gli incidenti sul lavoro sono tanti in cui il reddito per capita è basso ci troviamo davanti a famiglie che spesso sono monoreddito per cui per noi è una priorità andare a intervenire sia su chi ha subito un incidente mortale per dare un sostegno alla famiglia ai figli o al coniuge in caso non ci siano figli sostenere anche le spese funerarie e dei sostegni per chi ha avuto un incidente che ha portato in priorità superiore al 60% Noi non ci sostituiamo all'istituto all'INAIL rispetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie pressionali non facciamo altro che integrare con le prestazioni previste da questo fondo quella che come dire l'accadimento che colpisce sia le imprese artigiani i titolari artigiani sia i lavoratori di questo comparto un comparto che utilizzando molto la manualità e un poco meno la tecnologia è soggetto a più rischi Bene lasciamo adesso la Gazzetta del Sud andiamo sulla prima pagina del Quotidano del Sud e siamo ancora un po' in Calabria poi diamo un'occhiata anche se abbiamo già visto le home page dei siti internet ma anche le prime pagine dei giornali il Quotidano del Sud Mattarella la Costituzione la salvaguardia della solidarietà è il messaggio questo del Capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica e poi la strage di Cutro ci sono tre indagati svolta nell'inchiesta sui mancati soccorsi in mare si tratta di due ufficiali e un sotto ufficiale della Guardia di Finanza si aspettano altre iscrizioni contestate anomalie nel diario di bordo cancellazioni e aggiunte perquisite sedi della Guardia Costiera dunque questo per quanto concerne la strage di Cutro e poi le indagini non solo per la strage di Cutro ma anche per la morte di Denis Galatagli ispettori dell'USR al liceo di Polistena intanto ci sono dieci indagati appunto per la morte di Denis ne abbiamo già parlato ovviamente di quanto accaduto Sanità Cosenza e direttori generali dopo le aspe il turno dell'annunziata almeno così sembra potrebbe essere confermato appunto Vitalino De Salazar vedremo se sarà effettivamente così si passerà da una fase commissaliare a una fase di gestione vera e propria e poi Ciro Marina delitto Aloisio inflitti 5 ergastoli siamo a Ciro Marina lo Sport il Cosenza che pareggia resta in Serie B a Brescia un delirio ne abbiamo già parlato a lungo Reggio Unione di Comuni per sostituire le comunità montane questa è una proposta che arriva dalla Regione Calabria e altre notizie andiamo a Reggio Calabria potenziata la vigilanza al Tribunale Regino Vibo Valenza demolizioni la stretta del Comune Crotone a Capocolonna abbiamo raddoppiato le presenze poi ancora Isola Caporizzuto l'ex parroco Scordio torna libero lo sappiamo è stato implicato in un'inchiesta un po' di tempo fa Bagnara il corone di affidato per la Madonna di Polsi infine Catanzaro la Lega manca una strategia per la città la Lega si è riunita i rappresentanti del Consiglio Comunale sono riuniti per fare un po' il punto della situazione per quanto concerne la gestione del Sindaco Fiorita fra queste a coordinare l'incontro c'era il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso sentiamo le considerazioni appunto su quella che è la gestione Fiorita ogni 5-6 mesi due volte all'anno almeno riunisco tutto il mio gruppo quindi è l'occasione di questa riunione analizzeremo anche il primo anno di amministrazione di Fiorita niente di particolare il giudizio certamente non è positivo però ci sono delle attenuanti attenuanti dovute al noviziato attenuanti dovute ad una maggioranza che non c'è attenuanti dovute a chi pensava che sarebbe stato facile governare così non è noi per quanto ci riguarda stiamo cercando di dare anche una mano perché infierire su un'amministrazione che ha già i problemi non fa bene a nessuno la città è di tutti la regione penso che abbia dimostrato un grande supporto e questo perché amiamo la nostra città Fiorita dovrebbe un po' diciamo cercare di ascoltare anche i nostri consigli noi non vogliamo nulla in cambio l'abbiamo dimostrato però vogliamo rispetto e vogliamo che il nostro le nostre critiche che non sono mai strumentali non sono mai come dire ricattatorie come ce ne sono tante venissero prese nel verso giusto sempre nella direzione del bene della città diciamo la verità noi l'abbiamo chiesto ma non le vogliamo noi non vogliamo le dimissioni di Fiorita non è tempo di dimissioni e non sarebbe giusto neanche nei confronti di un uomo che è un uomo onesto e che probabilmente ancora non ha preso le giuste misure né alla città né a chi lo circonda quindi le dimissioni sono state chieste perché se non hai la maggioranza per governare devi andare a casa pensiamo se quell'evento fosse stato in occasione del bilancio doveva andare a casa obbligatoriamente noi non vogliamo questo vogliamo che lui amministri ma amministri bene che non sia tirato dalla giacchetta che non sia ricattato e possa dare il meglio di sé cosa che non sta dando fino adesso perché il meglio di sé lui non è stato in grado di darlo perché è sempre condizionato dai suoi stessi uomini di maggioranza quindi noi in modo veramente lodevole abbiamo tenuto la maggioranza in consiglio perché è giusto che i numeri i consiglieri sono pagati per andare in consiglio e vanno in consiglio poi siamo stati anche criticati per questo dicendo che siamo rimasti soli però hanno firmato la nota 14 persone che non sono certo la maggioranza perché la maggioranza è 17 lo abbiamo ribadito però insomma questo fa parte del gioco delle parti bene velocemente andiamo a dare un'occhiata alle ultime pagine interne del quotidiano del sud prima di passare nazionali anomalie nel diario di bordo cancellazioni aggiunte posticce ovviamente si parla dell'inchiesta relativa alla strage di Cutro e poi velocemente ancora dopo le asp tocca all'annunziata verso la via la procedura per il nuovo direttore generale dell'ospedale adesalasare entra nell'albo degli doni la strategia di Cutro resta la stessa e ancora i rincari non allontaneranno i turisti e speriamo non ci siano troppi rincari parliamo ovviamente dell'asso balneare quindi i lidi le spiagge il prezzo delle sedi ombredone lettine resterà contenuto al più gli imprenditori si rifaranno sugli altri servizi come la ristorazione e poi e ancora il crollo si lamare i deputati PD interrogano Salvini a che punto sono i lavori per far uscire il borgo dall'isolamento e poi la crisi alla map sud di San Marco Argentano l'azienda avvia le trattative con la regione pronto il piano industriale per salvare i posti di lavoro qualcosa si muove e speriamo bene infine allo sport regina il momento è delicato da un punto di vista societario visto che la stagione è finita praticamente per la regina c'è da salvare il titolo sportivo per programmare la prossima annata società torna in campo per la partita più importante della stagione e poi ancora Zauli ai saluti grazie Crotone e va via il tecnico dopo la sconfitta nei playoff grande amarezza appunto per la società rosso-blu per il Crotone bene ci fermiamo qui per quanto concerne la Calabria lasciamo adesso la parentesi regionale andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le aperture dei quotidiani nazionali andiamo sulla Corriere della Sera come sempre e confessa il killer di Giulia il racconto shock volevo bruciarla polizia tuscita da un collega a Roma e poi i giudici i controlli accelerano il PNRR ma passa la norma sui limiti alla Corte andiamo avanti ancora anzi prima di cambiare testata passare alla Repubblica e diamo un'occhiata anche a quella che sono l'inchiesta sulla strage di Cutro sei indagati per il mancato soccorso ai naufraghi e poi la Repubblica l'Italia alla Orban strategia di governo schillaci nei nostri ospedali infermieri indiani e ovviamente il parallelismo con Orban e le Corte dei Conti Rai Quirinale e Parlamento attacca il sistema di controlli costituzionali con un obiettivo uno strapotere della maggioranza costruito sul modello ungherese ovviamente l'attacco questo nei confronti del governo da parte di Repubblica doveva sparire così è morta Giulia confessione shock di impagnatielo il fidanzato killer ha cercato di bruciare il corpo della compagna incinta e l'ha tenuto nascorso tre giorni nel box auto pensate un po' lasciamo lasciamo un attimo le prime pagine dei quotidiani per andare a dare un'occhiata a qualche post social ce n'è un pochettino di tutti i colori oggi c'è Giuseppe Conte che parla del lavoro lavoratori e imprese del settore delizio non hanno più tempo per aspettare governo e una maggioranza sempre più inerti e incapaci in campagna elettorale si è riempito la bocca del centro-destra e difesa del super bonus famiglie imprese delizio coinvolte ieri invece l'esecutivo ha fatto emergere l'ennesima promessa tradita sulla delicatissima questione del blocco dei crediti d'imposta legati al super bonus e altri bonus edilizzi sbloccare credit di vitale importanza questo lo dice Giuseppe Conte sul settore edilizia Laura Boldrini invece pone l'accento su quelle che sono i due casi di femminicidio possiamo definirle così quello di Giulia Tramontano e quella della poliziotta uccisa una nel milanese l'altra a Roma e ovviamente si parla e analizza un po' il fenomeno Laura Boldrini il Movimento 5 Stelle altre armi all'Ucraina anche con i soldi PNRR se serve l'Eurocamera la via libera la destra a favore il Movimento 5 Stelle vota no il PD si spacca follia no all'escalation militare scrive il Movimento 5 Stelle e poi infine sembra non dire nulla questo post è un post di Manuel Pascali Manuel Pascali che ex giocatore del Cosenza uno dei protagonisti anche della promozione del Cosenza in Serie B nel 2018 era a vedere il Cosenza a Brescia e vedete cosa scrive questo ovviamente a fine partita questo nel 2023 non può e non deve succedere non posso portare mio figlio allo stadio e vederlo piangere dalla paura e con lui tanti bambini presenti questo non può succedere e si riferisce alle scene viste nel finale davvero vergognose e lasciamo la parentesi social prima di salutarci qualche altra prima pagina Kiev e Kosovo serve più Unione Europea questa è l'apertura del messaggero tradimento e morte la fine di Pierpaola e Giulia i due casi di femminicidio tolto il reddito e Movimento 5 Stelle torna il lavoro secondo il giornale boom di occupati e poi anche qui le vicende legate alla morte di Giulia Tramontano e fatto quotidiano il campo largo del PNRR armato e ovviamente la mucchiata bellicista così la definisce il fatto quotidiano l'intese sulle armi da spedire in Ucraina apertura del fatto quotidiano Libero il giorno delle Eurosberle il PD esplode sulle armi quindi attacco al PD sulla gestione dei fondi appunto per le armi da parte di Libero Giulia e il suo bimbo uccisi senza pietà questa è l'apertura del mattino Kiev e Kosovo Appello del Colle poi ancora il tempo Schlein Kamikaze e dall'altra parte Di Maio primo giorno del golf pubblica tweet in arabo e persiano e ovviamente Osho ci scherza un po' su la stampa l'Italia acceleri su PNRR e MES Giulia un orrore premeditato infine la prima pagina di Avvenire pace e armi che dividono da un lato e poi dall'altra parte ci sono gli indagati per Cutro e la morte di Giulia e Tramontano e tra l'altro la seconda pagina di Avvenire alcune volte porta delle notizie che non troviamo in nessun'altra parte in Bangladesh a giorni dal ciclone milioni di persone ancora in difficoltà domenica scorsa la preiera del Papa per quanto accade in Bangladesh e queste sono notizie che purtroppo troviamo poco se ne parla poco di altre parti del mondo ma sono tragedie anche queste ci fermiamo qui per questa giornata di oggi ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 7 grazie io intanto vado via voi restate su Ten buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti